Un primo maggio a Fonte Cerreto, proprio alla base della funivia del Gran Sasso, che da oggi è chiusa perché dovranno essere cambiate le funi portanti. L'orizzonte non è roseo, allora la CGL, per richiamare ancora una volta l'attenzione su una vicenda che destano poche preoccupazioni, ha deciso di celebrare la festa del non lavoro proprio in cima al Gran Sasso. I lavoratori non hanno certezze per il futuro, i stagionali andranno a casa, alla politica si chiedono ora risposte e certezze. Domani intanto il centro turistico ha convocato i sindacati, a fianco di sindacati e lavoratori la banda di Paganica, che ha fatto tappa alla base della funivia suonando l'inno d'Italia e altri brani. Ma accanto ai lavoratori del centro turistico c'erano anche rappresentanti di Tecnocol, anche loro impegnati in una durissima avvertenza di lavoro. Siamo qui oggi, festa dei lavoratori, ma oggi festa per alcuni lavoratori non è, perché da oggi la funivia è chiusa e quindi non abbiamo certezze per il futuro lavorativo di questi lavoratori che lavorano nel centro turistico del Gran Sasso. Ed è una preoccupazione enorme perché da oggi fondamentalmente non sappiamo cosa andranno a fare questi lavoratori. Sostituire le funi sappiamo che è un lavoro enorme, anche perché bisogna reperirle e non è semplice. Ci vorranno mesi se non anni per la sostituzione completa delle funi. Noi domani abbiamo un incontro con l'amministratore del centro turistico del Gran Sasso al quale chiederemo garanzie per questi lavoratori. Dopo 15 anni di lavoro precario, questo scelto meglio, rimanere senza lavoro, Io c'ho un'età pure abbastanza avanzata, 60 anni quasi, 59, il futuro non è roseo. Speriamo che il Comune si impegna a darci la possibilità di lavorare comunque, perché tanto i lavori da fare ce ne stanno. Certo, la stagione invernale prossima sarà davvero difficile. Sul fronte ai sostituzioni funi, il Comune ha fatto sapere di voler anticipare la revisione generale della funivia, prevista per il 2028, per accorparla alla sostituzione ed evitare che l'impianto chiuda due volte. Questo l'esito di una riunione a Roma è corsa contro il tempo per non compromettere almeno la prossima stagione invernale. Da oggi, intanto, l'amministrazione è stata costretta ad attivare un servizio navetta, Fonte Cerreto Campo Imperatore, per cercare di ovviare al problema della chiusura della funivia al pubblico esercizio. Il servizio di trasporto con il Bussama prevede quattro coppie di corse, due al mattino e due al pomeriggio, dal lunedì al venerdì, e sei coppie di corse, tre al mattino e tre al pomeriggio, per i sabati, le domeniche e festivi. Un servizio che durerà sino al 30 settembre e sarà calibrato in base alle esigenze e ai flussi di utenza registrati.